Come è stata la partita di Savona? Abbiamo fatto il gol davanti, siamo riusciti a limitare i danni, è ovvio che è ancora tutto aperto, è ancora tutto in ballo, posso dire che sono soddisfatto della prestazione perché abbiamo dimostrato veramente che possiamo dire la nostra dappertutto in Europa e in Italia, quindi andiamo avanti, lavoriamo sodo e continuiamo a crederci. No, assolutamente, a questo livello si gioca sul vantaggio di un gol, anzi direi 0-5, è ancora tutto aperto e quindi aspettiamo la gara di ritorno e vediamo come e se saranno più bravi di noi.